Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia seconda live in cui gioco a Slow Roads Per chi non lo sapesse questo è un gioco che servirebbe appunto per poter sconfiggere la noia E' un gioco in cui bisogna guidare una macchina su una strada e ci passiamo il tempo eccetera Allora, penso ora che dovrebbe andare tutto bene Allora vedo se si è collegato qui Perfetto, siamo connessi Solo che io non mi vedo Ma comunque penso di imbaddare Sto caricando YouTube Studio Perché sto vedendo che è tutto buio Non so perché Ok, perfetto Allora adesso, come ieri, controllo se dalla mia televisione sta procedendo Ciao Alex, benvenuti in live Eccoli, eccoli Allora, intanto vedo se procede tutto alla perfezione Andiamo un po' Perfetto Ecco la live qui Allora, sì ragazzi sto controllando dalla mia smart tv su YouTube per vedere se funziona Un attimo sta caricando, però devo vedere Allora, aspettiamo un po' di persone e poi possiamo partire Allora, penso si senta tutto E che dire Intanto come state ragazzi se ci sono più persone come state, come state passando le vacanze Se tra un po' giochiamo a questo gioco ci divertiremo Che dire Allora, vediamo se entrano un po' di persone Ma ragazzi, soprattutto oggi speriamo che la macchina di questo gioco non faccia come ieri Che inizi a sbandare, andare fuori strada, insomma E soprattutto io devo stare concentrato Certo, darò un'occhiata velocissima sulla chat Che Come sappiamo tutti ormai sto trasmettendo con OBS Finalmente, perché prima non riuscivo a collegare OBS con YouTube per poter fare live Ma adesso Cioè, ieri sono riuscito Ok, ci sono quattro spettatori Sta dando YouTube Meglio il YouTube Live Control Panel di OBS Mentre YouTube Studio Sta dando tre spettatori E Tre mi piace Quattro spettatori simultanei Per ora sta andando tutta la perfezione Nessun errore come ieri I bitrate Sono sia pari A 6800 E Diventano sempre più alti Quindi oggi Non ci dovrebbero essere problemi Come ieri Allora Tanto saluto le persone che Le nuove persone che sono entrate in questa live Spero che chattino Che mandino qualche messaggio Insomma Ci divertiamo dai Ieri avevo fatto La mia prima live su questo videogioco Però non sono venute tante persone Ma vabbè Potevo capire Forse alcune persone ieri non potevano Altre stavano al mare YouTube Studio YouTube Live Control Panel Mi sta dando 5 spettatori Vediamo YouTube Studio Ok Ve ne ha dati 5 anche qui Ok Tre visualizzazioni Allora Benvenuti Benvenute Do il benvenuto alle Persone che sono entrate ora In questa live Dai Dai Che oggi Che oggi ci divertiamo Dai Su su Allora Che è perfetto Si sente tutto Funziona tutto Io sto controllando La mia smart tv YouTube Se tutto va bene Ok E Niente Non so che dire Allora ragazzi Tanto bevo perché Ciao Alessandro Benvenuti in live Bella fresca Eccoli Eccoli Ecco Finalmente Ieri non c'era nessuno Oggi stanno venendo Tutte queste persone Dai Dai Che poi iniziamo a giocare A questo videogioco Benvenuto Dark Gamer Benvenuto anche a te Ciao ragazzi Grandi ragazzi Finalmente Oggi siamo in tanti Dai Poi sia Alex Che Dark Gamer Sono i moderatori Della live Lo metto Dai 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 ragazzi Dai Vedi Tanti Vedi Tanti Che se divertimo Oggi Dai Carichi Come non mai Grandi Che dite Come state passando Queste vacanze Stanno andando bene Sono fantastiche Allora Che mi raccontate Frequenza chat 2 4 visualizzazioni Spettatori simultanei 5 Allora Tutto sta andando Alla perfezione Non si sta bloccando nulla Siamo Il microfono si sente Che è una bellezza Andiamo qui Youtube studio Ecco la chat Perfetto Eccoci qui Allora Tra poco Incominciamo a giocare Adesso vediamo Se ci sono altre persone Che E Attenzione Attenzione Ok perfetto Aia Aia Di nuovo L'errore Che youtube Non sta Non sta Ricevendo Un flusso Video Sufficiente E Mannacce Mannacce Ma poi Questo avviso Sparirà Perché io I bitrate Lo sistemati ieri Sono sia pari A 6800 E Sia superano Questo valore Ora siamo A 7095 KB per secondo 6700 Bene Tu un po' Un po' Si blocca Lo so Io Ieri ho aggiustato I Eh Lag lag Mannaggia St'errore maledetto De youtube Ma tanto poi Si sblocca di nuovo Tanto poi si sblocca Cerco di Risolvere qui Ora Ora si aggiusta Ora penso Sia giusta Dai Se questo errore De youtube Sparisce Perché I bitrate Sono sia pari A 6800 Che Ok perfetto Ora Non lagga più Ora dice Eccellente Dai dai Due minuti E alle 5 Si comincia A giocare Dietro un po' Va dallo stadio Eh Speriamo oggi Che Il Lecce Possa fare Grandi cose Possa vincere Si mi raccomando ragazzi Se volete passate anche dal canale di Alex Maverick Per restare aggiornati sulle Notizie Inerenti al Alla nostra squadra giallorosso Per il Lecce Eh Scusate un attimo Perfetto Ok Allora Ora sta andando tutto bene Qua Lo youtube live con il panel Mi dice che È eccellente Spettatori simultanei 6 Dai Me lo sentivo oggi Che sarebbero venute Tante persone In questa diretta Ciao Dai ragazzi Dai Che Ora si fanno le 5 Si attacca col gioco Allora Ora sta andando tutto bene Non lagga più Lo youtube live con il panel Mi dice che è eccellente Cpu 72.1% Ora 73.7% Dai che oggi ci divertiamo con questo gioco E rideremo anche se per caso La macchina va a sbandare A fare uno stridio di freni A fare Musikama Ma non mi viene in mente Perfetto Sono le 5 Allora Adesso Cambio l'inquadratura La webcam qui si è bloccata Mora Disolvo Perfetto Allora Stemmo un po' qui Inizio Allora Ora metto a fuoco Perfetto Possiamo partire A tutto gas ragazzi Partiamo di botto Di bo Boom Perfetto Allentiamo 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 Stiamo un attimo Gli occhiali Vai Ok 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 Fuoristrada 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 Eh vabbè Eh vabbè Centrazione E si rimane E si rimane in strada Come vedete ragazzi Sto giocando con Il joystick Della play Che ho collegato Al cellulare Come vedete Sta andando Tutto bene Dicevo 8 spettatori Wow E 9 visualizzazioni E mannaggia E mannaggia Eccolo E va da sola E va da sola Cioè 10 visualizzazioni Vai ragazzi Dai Commentate Commentate Oggi siamo in tanti Quindi intanto Do un'occhiata Alla chat Per vedere Che scrivete Che pizza Bom Bom Dai Chi era a morte Eh Dai Mannaggia La miseriaccia Ladra Sta macchina Oh Un attimo No 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 Si dovete sapere Ragazzi Che la macchina E' come se fosse Invisibile Quindi Riesce A attraversare Pure i tronchi Degli alberi Eh si Eh vabbè Ora devo finire Il bosco Fermo Dai su Annaia Rientra in strada A tutto Gas Aia 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 Perfetto Poi comunque Sembra tipo Come Se si sta andando In un'autostrada E Stanno vedendo Le montagne Questa macchina Sembra una Tesla Aiaiaiai Non va Non va Perfetto Eh Ok Ok ragazzi Allora Eh vabbè Eh vabbè Sta macchina Annaia Sta Si è bloccata Perfetto Vai Aiaiai A tutto gas Aiaiai Lag di Youtube Lag di Youtube Di nuovo Di nuovo Non ci voleva Non ci voleva Tutte le sfighe In questo momento Ragazzi Il lag E la macchina Che non va In strada Vai Non va manco più indietro Mostra manda Marcia indietro No Non va più Marcia indietro Ma dai Problemi Problemi Non va Non va più Non va più Un bel Un bel Se sta laggando ragazzi Tanto poi non laggerà più Uscito questi errori di youtube Ma ora mo si risolve da solo State tranquilli ragazzi E vabbè E vabbè mo si è bloccata Ma non va più Ahì Ahì No questo errore Mannaggia la miseria E poi questo sarebbe un gioco Per poter sconfiggere la no La noia Però è bello Non si vince Non si perde C'è solo sta macchina C'è solo sta macchina Che se va a sbattere Non si distrugge Rimane sempre intera Integra 17 minuti di live Mannaggia Un po' di live ai 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 perfetto ora non laggo più ora non laggo più ora non laggo più ora ragazzi senza gli strami sta andando tutto bene non 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 ma è la macchina vai sull'erba vai si sto soffrendo sul microfono per pulirlo che il pop filter ha un po' di polvere va bene va bene va bene va bene sta macchina sta macchina vai corriamo non abbiamo paura di niente let's go poi ragazzi sembra che l'auto si lo ripeto sembra invisibile quanto non urta sui tronchi degli alberi e attraversa senza problemi questo telefono raga siccome ha cento vertiarsi di grafica mi ha detto ieri perfetto per giocare questi giochi un attimo fermo casomai siamo 11 visualizzazioni ragazzi e ora apro youtube studio per vedere se ci sono altri messaggi perfetto ok allora ragazzi eeeh eeeh perfetto possiamo andare dai raga ok aiaiaiaiai certo si per sconfiggere la noia ma anche pensava di una cosa non sensata scusa camion dell'immondizia fuori però comunque ragazzi che figa questa inquadratura un microfono che si vede o anche una luce red davanti così vi vedete bene boom vai tutto gas nessuno ha paura di niente ufff stavo dicendo ragazzi che questo telefono ha 120Hz di grafica quindi perfetto per giocare a questo gioco adesso si non è più tanto fluido c'è questo piccolo lag però voi funziona peccato se ne sono andate tutte le persone ora siamo a due spettatori iiii dai 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 modifiche del pc ora sta andando liscio si va un po' troppo veloce c'è un piccolo lag però funziona molto bene e le strade si generano automaticamente quindi non c'è un arrivo è una specie di strada infinita non so se vi ricordate raga quando ha boxato questo microfono da gaming se non avete visto il video andatela a recuperare aveva aggiornamenti postazione da gaming unboxing e il microfono GXT trust e la confezione era fighissima da microfono professionale e nella scatola mi sa già scritto pure questo microfono è adatto pure per fare streaming quindi anche per le live sul sito viola mi dicevo per fare live sul sito viola mi dicevo per fare live sul sito viola uuuu aspetta aspetta oggi cosa fa ferma oggi cosa fa il lecce francese vince o perde? chi lo sa io mi auguro che vinca ciao ricky benvenuti in live mi avevo già detto ieri ragazzi la live lo sto facendo con OBS la potevo fare tranquillamente sul telefono ma sul telefono purtroppo c'erano problemi di audio e quindi la sto facendo con OBS ogni tanto do un'occhiata al display del mio portatile per vedere se arrivano nuovi messaggi in chat solo che il problema se do pure un'occhiata veloce l'auto va da un'altra parte e quindi corriamo let's go non abbiamo paura di niente 180 km voi non potete vedere non potete vedere i km orari perchè sono censurati dalla webcam che si trova in basso a destra del servo in basso a destra del servo in basso a destra uuuh mamma mia raga io già mi sto immaginando che durante sto tragitto l'auto mo' si ribalta sicuro e prima abbiamo avuto una fortuna cioè ho avuto una fortuna che non si ribaltasse st'auto pare tipo una Tesla un'auto elettrica se riusciranno a sentire il suono del motore che non è e naia la miseria che non è tipo di un'auto aspetta ok credevo in senso vietato bom perfetto ora non c'è più lag oh bom odio odio tredici visualizzazioni uno spettatore di nuovo l'errore di YouTube mamma mia cioè inizia a correre sbanda slitta vediamo di scaffa la marcia scusate un attimo raga non mela mannaggia 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 E scusate se la webcam si blocca Che ora penso ci dovremmo essere Oh, è mo? Oddio Oddio mio tutti sti problemi oggi Tutti Dai Dove sto andando? Erma Dove sto andando? Mi stavo Dicevo mi stavo confondendo con i tasti Del controller Dai Si corre Abbastanza E Dai E di nuovo l'errore di Youtube Eh vabbè Oggi tanta sfiga ragazzi Tanta sfiga Quando faccio le curve dovrei lasciare l'acceleratore Se corro troppo veloce E poi qui su sto controller Il gommino della rotellina Di sinistra Si è rotto Bum Perfetto Perfetto Ora Non c'è più l'alto Pu-pu-pum-boom Bu-pu-boom Si sono nel bosco Guardate guardate La macchina attraversa I tronchi degli alberi senza problemi Boh Se ragazzi facciamo un po' di strada E poi concludiamo E oggi purtroppo abbiamo Forse la macchina Ha fatto più slittamenti, sbandamenti Urti Molto di più Molti di più rispetto a IE Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Aspetta ragazzi, scusate. Sono due minuti e poi concludiamo qui questo videogioco. Questo videogioco è infinito, non ha una fine però. E... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.